spogliando l'album del 1346 mi tornano alla mente tanti ricordi uno in particolare è un fatto che ci stessi oggi lasciamo la scelta di abbandonarla questa fortezza senza battaglia e senza morti questo dunque era quello che accadeva nel medioevo ma questa è la realtà questa è solo una finzione una rievocazione storica ma guardatevi intorno è talmente ben organizzata con talmente tante persone in costume che sembra davvero di essere nel medioevo questa è la bastida di sorres che come tutti gli anni accoglie decine e decine di turisti che per tre giorni vogliono entrare nella storia insieme a loro dai venite con me che vi faccio immergere anche a voi in questa atmosfera medioevale vedete ogni anno qui a Boruta viene ricreato esattamente un borgo così come probabilmente lo si viveva nell'epoca è molto plausibile che fosse nell'epoca esattamente così come lo vedete perché questo era un importante centro economico dove sicuramente la vita andava avanti così con tutte le attività quotidiane le signore che preparavano il vino le ceramiche che vendevano e creavano le stoffe vedete con invece gli uomini che si occupavano della guerra delle spade della della caccia e ci sono davvero tantissime tantissime cose da scoprire qua e questo è bellissimo perché non si tratta di una semplice esibizione poi turisti entrano proprio nel medioevo perché loro non smettono mai di recitare loro continuano a vivere nel loro borgo guardate la loro stanno mangiando ad esempio e continuano a recitare anche mentre mangiano ecco perché questo è un evento bellissimo da respirare questa è la vita che si faceva allora loro vivevano in pace qui a Boruta quando a un certo punto hanno dovuto fronteggiare questo questo attacco da parte dei genovesi prima però godiamoci un po' delle attività del borgo che sono davvero davvero interessanti amici qua siamo in ospedale questa è una sala d'ospedale chiamiamola così o meno qua ci sono gli attrezzi del chirurgo tu sei il chirurgo dell'epoca si in questo momento sto facendo di trapanare un cranio durante la costruzione di una basilica come quella era normale che le persone avessero incidenti soprattutto per cadute i chirurghi dell'epoca avevano imparato prima di tutto a liberare le ferite dal sangue e lo si faceva con questo e lo facevano con questo ma scusa allora non c'era l'anestesia ma c'era un anestetico almeno allora dai trattati che abbiamo visto dell'epoca abbiamo visto che i pazienti erano svegli no magari con le mani legate no però svegli diciamo così l'anestetico dell'epoca era questo un ferro rovente avevano le mappe corporee loro bruciavano i punti che sapevano essere anestetici per l'operazione che dovevano andare a fare quindi per esempio dovevano fare un buco in testa e allora allora andavano a bruciare alcune zone della fronte che distraevano dal dolore e noi che oggi ci lamentiamo fossimo nati in quei tempi lasciamo il chirurgo che riprende a spiegare tutte le curiosità dell'epoca ai visitatori e ci fermiamo in un altro stand tanto per cambiare affollato di curiosi qua siamo invece in farmacia vedete che c'è scritto farmacia e lei la farmacista dell'epoca che in realtà vendeva le spezie perché ci si curava con l'alimentazione con le spezie sì per esempio con i semi di lino e cioè con la farina di semi di lino si poteva ottenere un unguento che serviva per aiutare la maturazione di uno sesso questo è il famoso zucchero di canna che noi vediamo nelle bustine ma all'epoca era così grezzo si era così più che altro arrivava così in europa perché si solidificava un po durante il viaggio per via dell'umidità che era presente nelle navi quindi arrivava così poi dopo nelle botteghe degli speziali lo si metteva nel nei mortai si pestava e quindi ritornava come prima tenete conto che tutte queste cose erano per i ricchi per i nobili perché il popolo non aveva accesso alle spezie erano molto costose un po come oggi andare in gioielleria a comprare appunto gioielli costavano tantissimo un pugno di chiodi di garofano costava quanto un montone quindi chi non si poteva permettere di mangiare sicuramente non comprava le spezie lasciamo solo per un attimo il borgo e le sue attività perché sono cominciati i balli medioevali proprio davanti alla chiesa siamo col sindaco di boruta che ha una bella responsabilità perché questo sindaco non è soltanto un evento ludico qua c'è qualcosa di più sì con la bastida di sorres noi vogliamo promuovere il sistema turistico di boruta innanzitutto ma del melogu tutto intanto col nostro monastero di san pietro di sorres con la cattedrale di san pietro di sorres che lo ricordo il monumento nazionale fin dal 1895 con la misticismo e la spiritualità dell'annessa abbazia ma soprattutto vogliamo promuovere la nuova l'area sic della roccaulari istituita di recente dall'unione europea grazie alla presenza di alcuni specie di pipistrelli uniche ricordo i pipistrelli come dire sono le sentinelle più attente della salubrità di un territorio davvero perché perché se ci sono i pipistrelli significa che un territorio è sano non è inquinato e quindi contribuiscono certamente a garantire la salubrità di un ecosistema e allora andiamo a vedere questi famosi pipistrelli ai quali è stata dedicata una parte della mostra allestita proprio accanto negli edifici adiacenti la grande chiesa mostra che come vedete dal continuo via vai riscuote molto successo e che parte da una sala in cui è allestita una mostra privata di armi medievali tutti pezzi originali che vengono descritte da giovani guide che spiegano tra l'altro gli utilizzi di queste armi noi però siamo curiosi di sapere dei pipistrelli e quindi mentre gli altri continuano il loro giro noi entriamo nella sala a fianco che ospita la mostra allestita dall'ente foreste ed in cui ci guida la giovane francesca a questo punto visitiamo la mostra con francesca francesca che è una mostra dell'ente foreste per conoscere gli animali sardi per promuovere appunto di quelli che vediamo sono animali sardi sì sì ma veri tipo questo veri sì sì veri in balsamatti allora questa è un aquila reale e il maschio arriva fino a 75 centimetri di altezza la femmina 90 centimetri hanno un'apertura alare di due metri enorme questo è un maschio questo è un maschio sì e viene da nuorese insieme al cervo qui che vediamo che è vero anche questo verissimo ci credo che vengono tutti qua a visitare la mostra sicuramente non si può toccare no assolutamente c'è il pelo morbido no sì sì e poi cosa ci fai vedere fra poi posso mostrare la donnola è carina la donnola che viene da insomma carina ma un po monellina perché perché diciamo che ammazza conigli e gallini animali diciamo di campagna per estrarre appunto il sangue per il piacere proprio di ammazzare non di mangiarli questo scricciatino qua sì proprio lui sembra così ma hai capito un po meno carino e simpatico e poi ci sono troppe cose da farvi vedere ecco brava che incuriosivano anche me che sono appunto diverse razze il più diffuso proprio allora tutti questi pipistrelli vengono dalla nostra grotta sotto di noi dalla grotta Olari e questi sono di qua proprio proprio di qua il più diffuso è l'orecchione sardo nella grotta ci sono circa 10.000 pipistrelli fermi tutti allora siamo qua andiamo proprio a visitare nella grotta così vi facciamo vedere anche quella l'orecchione sardo sì che è proprio tipico sardo sì sì e allora ne approfittiamo così andiamo a farvi vedere anche la grotta che nella grotta ce n'è 10.000 specie tutti tutti orecchioni proprio qui tra il borgo e il paese quindi esattamente qui i turisti possono visitare una vera e propria grotta di grande interesse che è proprio qua fate 30 secondi con noi di cammino ed entriamo la grotta e scendendo ci godiamo anche un bel panorama guardate che bello qua si domina tutta la vallata bonnannaro si vede tutta vedete torralba e se guardate bene in fondo non so se riuscite a vedere si vede la pelosa guarda tutta la gente spiaggia vede lui qua invece e nei giorni di buona vi assicuro da qua si vede la scandinavia benissimo chiaramente tutta la scandinavia si vede andiamo a vedere la grotta ed eccola qua questa è l'entrata della grotta che non è neanche piccola questa grotta la grotta Ulari presente nel territorio di Borutta è importantissima perché è stata dichiarata SIC sito di interesse comunitario qua vi sono presenti 5 specie di pipistrello il rinolfo maggiore di meli e quello il vespertilio di Capaccini e il miniotero che sono dei pipistrelli presenti anche in ambito europeo e inoltre importante è perché da poco il CEPIS, il centro pipistrelli Sardegna ha scoperto un nuovissimo pipistrello il Pleutus Sardus che non è stato trovato in nessun'altra parte della Sardegna neanche d'Italia davvero c'è solo qua? Sì qua all'interno della grotta è proibito parlare e sto parlando praticamente soltanto io piano piano perché non so se li vedete sono centinaia i pipistrelli che sono presenti qua dentro e se si svegliassero tutti insieme potrebbero anche essere pericolosi quindi zitti, osservate e basta guardateli se ne uscite sono davvero tanti li vedete, li vedete che volano? Zitti, zitti anche voi sono piccoli, piccoli, sono anche carini sfattiamo questo mito dei pipistrelli brutti e schifoni sono carinissimi, è vero, vedi che tutti sono tranquilli anche i bambini è bellissimo, oltretutto ci spiegava la guida che questi pipistrelli qua cercano di risparmiare energia e creano delle capsule di grasso in modo che quando vanno in letargo poi traggono energia da queste capsule per cui adesso non si possono disturbare anche perché ogni volta che li disturbiamo loro sprecano energia gli unici momenti in cui sprecano energie sono quando verso sera vanno fuori dalla grotta a cacciare insetti per poi tornare dentro e riattaccarsi a testa in giù molti notando questi buchi, queste coppelle nel soffitto accanto a loro chiedono alla guida cosa siano queste coppelle che troviamo qua non sono naturali sono scaturite proprio dall'erogazione delle sostanze acide che mette il pipistrello sulla roccia per appendersi anche mentre camminiamo durante la visita calpestiamo uno strano terriccio molle che è provocato dagli escrementi dei pipistrelli il guano che era un efficacissimo concime naturale era un concime naturale, richiestissimo infatti nella grotta si possono poi ammirare i livelli che ha lasciato appunto l'estrazione del guano veniva trasportato fin sul piazzale della chiesa dove veniva appunto essiccato e poi commercializzato purtroppo con l'avvento dei concimi chimici si è perso una visita davvero curiosa e per giunta molto rara dato che le grotte sono aperte solo due giorni all'anno durante la bastida per cui quello che vi abbiamo mostrato è un documento piuttosto esclusivo ora però usciamo volentieri all'aria aperta e ci dirigiamo nella pineta proprio di fronte alla chiesa dove l'organizzazione ha predisposto un'area picnic con pasti caldi o panini all'ombra della pinettina che si affaccia sulla bella vallata dislocati nell'evento anche tanti infopoint alcuni col personale con cui si può parlare tanti però anche interattivi questi piacciono molto perché come vedete i turisti in tutte le lingue possono visitare gli eventi sapere quali sono ma soprattutto i siti di interesse culturale turistico e questo è carino insomma perché si hanno delle notizie anche storiche per chi le voglia avere una gita dunque divertente ma per chi vuole anche istruttiva e infatti con le notizie storiche apprese sui monitor degli infopoint molti capiscono l'importanza storica di questo sito e soprattutto del grande monastero l'ex cattedrale di San Pietro di Sorres una bellissima chiesa romanica completamente intatta e ben tenuta dai benedettini che la abitano tutto l'anno e che ci portano adesso gentilmente a visitare sia fuori che dentro una chiesa molto importante perché fu la cattedrale della non più esistente diocesi di Sorres fino al 1503 i monaci ci tengono a farci visitare dapprima gli spazi verdi e i cortili esterni ma soprattutto il grande cortile interno cortile abbastanza recente perché interamente realizzato e costruito dai monaci stessi che cominciarono ad abitarvi dal 1950 in poi la passeggiata fra le piante e i fiori del giardino interno ci rilassano molto e ci permettono di rifiatare un attimo dopo i tanti eventi della mattinata ma il relax dura ben poco perché gli appuntamenti del programma della Bastida hanno ripreso dopo la pausa pranzo e noi non vogliamo perdere nulla una delle tante attività è anche questa quella di un piccolo maneggio proprio qui davanti alla cattedrale certo abbiamo...